iniziamo quindi questo capitolo che ho intitolato progettare l'esperienza utente quindi non è solo l'interfaccia utente ma l'esperienza utente che affronteremo in due passaggi prima cerchiamo di capire quali sono i principi generali della progettazione di interfacce quali sono i concetti quali sono i metodi di lavoro e poi cerchiamo di applicarli al caso dell'interfaccia che facciamo noi e quindi costruirci anche delle piccole bozze dell'interfaccia utente con cui il sistema informativo si può presentare all'utente questo è un percorso che faremo con un certo numero di lezioni di tappe perché la settimana prossima il laboratorio sarà un laboratorio polmone nel senso che mette insieme i vari argomenti che abbiamo visto finora quindi ogni tanto l'abbiamo già fatto una volta mettiamo un laboratorio in cui non ci sono non si introducono gli argomenti nuovi ma proviamo a consolidare quelli precedenti con un esercizio omnicompensivo quindi questa cosa in laboratorio la faremo tra due settimane nel laboratorio 9 se non ho sbaglio ok allora partiamo dall'inizio progettare un'interfaccia lo scopo unico di un'interfaccia è quello di servire l'utente di essere utile facile veloce piacevole efficace mettete tutti gli aggettivi belli che conoscete per l'utente se fosse per il computer le interfacce non esisterebbero neanche non ha bisogno di interfaccia un computer l'utente invece si quindi noi questa figura mi ricorda un pochino ciò che facevamo con i casi d'uso ci poniamo e analizziamo l'interazione tra l'utente e il sistema e vediamo che il sistema in realtà è composto adesso ci accorgiamo che è composto di due parti la parte bianca che è il sistema informativo con cui abbiamo ragionato finora che fa calcoli fa verifiche salva i dati eccetera eccetera e la parte grigia che è quella di cui ci occupiamo adesso è l'interfaccia utente c'è una parte del sistema informativo di righe di codici di lavoro fatto di ore spese eccetera eccetera che ha lo scopo unico di interfacciarsi con l'utente quindi gestire lo scambio di informazioni tra utente e sistema e quindi gestire le forme non solo i contenuti ma anche le forme del dialogo tra uomo e sistema i contenuti ne abbiamo già parlato cioè le informazioni scambiate sono quelle che viene scritto nei casi d'uso ma come vengono scambiate queste informazioni dove lo metto quel dato dove lo scrivo sotto che forma lo visualizzo e quindi andiamo anche qua a chiederci innanzitutto partendo dal dialogo che l'utente deve avere col sistema quale interfaccia utente andare a progettare senza mai dimenticare che sia il sistema che l'utente fanno parte di un contesto più ampio il mondo esterno che non ho disegnato solamente per così per completezza ma perché l'utente nelle sue interazioni fa delle assunzioni basate sul suo contesto a seconda dell'utente dove si trova come funziona quali sono le regole di funzionamento nel mondo esterno si aspetta che questo sistema si comporti in modo coerente noi schematizziamo l'interazione come scambio di informazioni ok quindi dati che l'utente azioni informazioni in generale che l'utente fornisce il sistema attraverso delle azioni che l'utente compie sul sistema il fatto di schiacciare di spostare di parlare di muoversi è un'azione che l'utente compie affinché il sistema la rilevi quando io schiaccio la freccia in giù è perché voglio che il computer si accorga che lo faccia in giù e lo interpreti cambiando slide e quindi il sistema fornisce delle risposte che sono visive acustiche tattili la porta si apre la luce si spegne la slide cambia in risposta a un'azione dell'utente quindi abbiamo sempre questo di nuovo doppio canale non necessariamente in alternanza stretta come facciamo con i casi duro dove ci ponevamo un livello un pochino più alto di estrazione ma separiamo nettamente quello che sono degli elementi delle azioni che portano dati portano informazioni al sistema rispetto a delle operazioni che portano informazioni all'utente e se ragioniamo in senso generale su un'interfaccia generale l'utente ha dei canali di input dei canali di output che sono essenzialmente legati alla nostra fisiologia e un pochino anche alla psicologia per cui quali sono i canali di input cioè come può fare l'utente a trasferire dei dati al sistema attraverso tastiera mouse joystick quindi usando le mani usando la voce riconoscimento vocale usando lo sguardo ci sono i sistemi che intercettano il punto in cui tu stai guardando e quindi portano il mouse nella casellina giusta oppure muovendosi pensate alla Kinect i videogiochi che non devi avere nulla in mano semplicemente muovendoti loro capiscono che stai facendo e viceversa quali sono i canali attraverso cui il sistema può fornire informazioni all'utente sono quali i sensi soprattutto la vista e in alcuni casi l'udito quindi la vista, lo schermo, il visore eccetera eccetera questo se vogliamo ragionare in senso generale questa slide mi sono fermato per un mezzo secondo prima perché mi ha mandato in confusione un dettaglio poi lo riprendiamo dopo però non ho fatto io questo disegno, l'ho rubato da qualcun altro però se notate in questo disegno input è sopra e output è sotto io nel cercare di spiegarvi il slide dopo sono rimasto bloccato un attimo perché qua c'è l'input sotto e l'output sopra ma perché quello lì si è dovuto mettere le cose al contrario? ok? c'è stato un intoppo minuscolo nella fruizione di un contenuto perché una scelta banale di un dettaglio sbagliata che ha rotto la coerenza di un modello mentale che mi stavo costruendo ho visto questa figura e mi sono fatto un modello input-output poi questo ciclo che gira, qua gira al contrario ok? noi stiamo programmando la mente degli utenti a capire delle regole di comportamento del nostro sistema se noi per primi rompiamo queste regole rompiamo l'utente ok? ci ritorniamo allora noi abbiamo dei sistemi complessi però da gestire non devo accendere la lampadina devo gestire un sistema informativo bancario allora ragioniamo sul termine complesso cosa vuol dire? allora noi possiamo avere dei sistemi con una diversa complessità strutturale complessità strutturale è il numero di pezzi di cui sono fatti il numero di parti di cui un oggetto è fatto quindi un orologio ha una complessità strutturale più alta rispetto a una lama, a un coltello un coltello ha due parti la lama e il manico l'orologio chiedete a un orologiaio svizzero quanti pezzi ha viceversa possiamo parlare anche di complessità funzionale complessità funzionale indica quante lui c'è il nome funzioni diverse quel dispositivo può svolgere allora il coltellino svizzero fa più funzioni del coltello normale avrà una complessità strutturale un pochino maggiore perché ha più levette eccetera ma non così tanto maggiore lo smartphone fa anche leggere l'ora ma fa anche altre funzioni in più molte funzioni in più allora noi tendiamo a pensare ma non è vero non è una regola generale che è una complessità funzionale maggiore si debba accompagnare una complessità strutturale maggiore non è vero una cosa pensate all'orologio e al coltellino svizzero l'orologio è molto più complesso dal punto di vista strutturale di un coltellino svizzero l'orologio ha dentro magari 2000 parti movimento, bilanciere, molle eccetera questo qua ne avrà 20 ma questo fa una funzione sola coltellino svizzero ne fa molte quindi abbiamo degli oggetti che sono magari strutturalmente più complessi ma svolgono meno funzioni o viceversa il trend generale è che per fare più funzioni devi essere più complicato tu forse ma non è una regola è un trend più o meno vago dopodiché è più facile usare un iPhone o un coltellino svizzero non so voi ma io mi rompo sempre le unghie se provo a aprire il coltellino svizzero invece quando uso smartphone no non so se è una misura di complessità il numero di unghie rotte però mi fa dire che esiste un'altra dimensione nella complessità che chiamo complessità d'uso quanto è facile o difficile da usare un certo strumento? la complessità d'uso non è conseguenza della complessità funzionale cioè una cosa che faccia più funzioni non è detto che sia più difficile da usare anzi gli smartphone e i siti web hanno proprio dimostrato che prodotti che abbiamo oggi che fanno miriadi di funzioni diverse sono molto più semplici da usare di prodotti molto più limitati di 10-15 anni fa voi prendete un tablet o uno smartphone di oggi lo date in mano a un bambino di 2 anni tendente ai 3 lo sanno usare nelle funzioni base riescono a usarlo non perché siano più intelligenti di quando avevo io 2-3 anni ma perché quell'oggetto è stato progettato meglio con un'attenzione maniacale alla facilità d'uso pur facendo molte cose in più pur potendo fare molte cose in più quindi noi dobbiamo dal punto di vista del sistema informativo la complessità strutturale ci casca sulla testa cioè un sistema informativo è un mostro che deve riserve dei dischi delle reti eccetera eccetera l'abbiamo parlato quando parlavamo del modello IT quella è esagerata complessità funzionale anche molto elevata allora io ci faccio un documento di requisiti funzionali di 100 punti diversi ciascun requisito faccio 3 casi d'uso casi d'uso delle narrative in 10 punti mamma mia quante funzioni devo implementare decine di migliaia per un certo periodo adesso non si usa più i sistemi informativi venivano contabilizzati in function point quanti punti funzione ha e diceva un sistema informativo a peso costa 400 euro a function point o delle cifre del genere poi ovviamente è una metrica che non vuol dire niente perché se non sai come migliorarla diventa come contrattare il mercato delle vacche perché non è una metrica ben definita però dava l'idea del numero di funzioni che devono svolgere e quindi del lavoro che ci stava dietro alla loro implementazione allora la complessità funzionale la complessità strutturale di un sistema informativo sono entrambe enormi non dico grandi dico enormi non me ne vergogno ma noi vogliamo che la complessità d'uso sia più bassa possibile più bassa di un coltellino svizzero o qualche sia un bambino di 3 anni un coltellino svizzero non lo riesce a usarlo per fortuna perché non glielo diamo in mano ma la facilità d'uso questa vignetta è del 2001 se non conoscete Dilbert ditevi sì se no vi tolgo il saluto Dilbert è una vignetta di un mio artista americano che chiama Scott Adams che è centrato sulla vita aziendale quindi ci sono i vari personaggi Dilbert è questo signore con la cravatta che è all'insù che è l'ingegnere questo è il suo capo che poi ultimamente lo disegna in modo leggermente diverso perché insomma dal 2001 ad oggi è cambiato un po' lo stile del disegno e quindi è molto interessante e carino è una vignetta quindi divertente sulle dinamiche aziendali perché poi c'è l'impiegato totalmente fannullone quello invece che rompe solo le scatole gli altri il capo del capo eccetera eccetera vabbè ve lo consiglio Dilbert.com e passate e non studiate più niente per almeno due giorni perché passate tempo lì vabbè questa vignetta cosa dice semplicemente dice ah il sistema è complicatissimo da usare abbiamo gli utenti saranno in grado non saranno mai in grado di usare un prodotto con quella complessità va bene allora alle 100.000 funzioni ne aggiungiamo 100.000 e uno facile da usare allora questo ha due errori uno un errore lo riconoscete subito che facile da usare non è un requisito funzionale che si può aggiungere ma è un requisito non funzionale di cui devo tenere conto dall'inizio dal primo giorno in cui comincio a pensare al sistema non lo posso aggiungere alla fine non lo posso aggiungere all'elenco delle cose perché il sistema fa primo e soprattutto non lo posso aggiungere al fondo la facilità d'uso non è una cosa che si aggiunge dopo ma è una conseguenza del modo in cui progetto il dispositivo non è che lo faccio e poi lo rendo facile da usare quindi noi abbiamo l'interfaccia utente andando a riprendere il disegno di prima che ha prima diceva lo scopo di rendere accessibile all'utente le funzioni del sistema informativo sì ma anche nasconderne la complessità cioè attraverso questo filtro grigio che è la parte che genera l'interfaccia utente io vedo un sistema che mi sembra molto più facile da usare di quanto in realtà non sia complesso lui dentro questa complessità qua non la togliamo la vogliamo ci serve ma non vogliamo ribaltarla sull'utente vogliamo che l'utente veda un sistema che invece ha una complessità d'uso molto più bassa pur mantenendo accesso a tutte le funzioni che ha il sistema non è impossibile ovvio che non ti viene gratis allora questo noi ce l'abbiamo già chiaro nel senso che noi nel progettare il sistema tramite use case quindi questa è un po' la continuazione della ragione tra use case abbiamo l'utente che ha un certo scopo deve interagire con il sistema per raggiungere quel suo obiettivo noi vogliamo facilitargli il più possibile la vita nel raggiungere l'obiettivo l'obiettivo dell'utente ovviamente lui se la forma in testa con i suoi pensieri col suo modo di vedere il mondo quindi noi sistema informativo dobbiamo andare dietro al modo in cui l'utente vede il mondo non dobbiamo parlare linguaggi interfacce troppo tecnici che siano lontani dal linguaggio dell'utente e allora le frecce di prima l'utente che comunica col sistema di nuovo gli ha scambiato di posto prima o poi trovo che ha fatto questi disegni comunicano nelle due direzioni allora noi abbiamo chi ha progettato il sistema che aveva qualcosa in testa quando l'ha progettato chi usa il sistema che ha qualcosa in testa nel momento in cui lo usa allora queste due l'utente e il sistema non vanno a braccetto sono separati da due ostacoli questo che qua è chiamato prima di tutto il golfo della valutazione cioè l'utente deve rendersi conto di cosa il sistema sta cercando di dirgli deve interpretare prima di tutto deve percepire ciò che il sistema gli fa vedere percepire vuol dire vedere non come vedevate voi il proiettore prima vedere per davvero quindi questo è un aspetto fisico avere il tempo e la logistica per poter percepire vedere o sentire le informazioni una volta che ho visto le informazioni le devo interpretare un numerino in basso a destra dentro nella nel nel destro di Windows che cos'è? è l'orologio lì c'è scritto un numero 18 e quanto è adesso cos'è quel numero? è l'ora quindi io lo interpreto sulla base del luogo in cui si trova dei numeri che ci vedo e gli do un significato e quindi questa è l'ora e questo è il numero di pagina c'è anche scritto a fianco slide 13 è anche più facile però guardate quante informazioni ci sono sullo schermo a ciascuna noi dobbiamo associare un'interpretazione cos'è? a cosa serve? che cosa ci posso fare? noi questa operazione la facciamo di continuo in frazioni di secondo non ce ne accorgiamo ma ogni elemento per noi è un significato quasi poi ci sono dei casi in cui invece ti blocchi e dici ma aspetta questo a cosa serve? ecco lì è un problema perché quel golfo della percezione si allarga è un golfo più ampio che è più difficile da attraversare costa più fatica per l'utente interpretare cosa sta vedendo cosa sta percependo e quindi puoi valutare qual è il significato di quella cosa per lui allora quella è l'ora ok poi la valutazione vuol dire che è tardi o che è presto è l'ora giusta o l'ora sbagliare sono avanti e indietro con le slide no? quindi ci sono sempre questi due aspetti uno capire cos'è quell'elemento di interfaccia e poi valutare che il suo valore per me è un certo significato che poi è lo scopo ultimo ricordiamoci l'utente non va per legger l'orologio va per sapere che ora è che vuol dire legger l'orologio ovviamente ma puoi interpretarne il significato è la stessa cosa al contrario l'utente vuole fare una cosa ha in mente ciò che vuole fare cancello uno slide ne aggiungo una ma poi deve dire come farlo dove devo toccare per fare questa azione era chiaro nella fase di valutazione quale fosse l'elemento che porta a quell'azione quindi devo vedere l'interfaccia capire cosa fanno i suoi elementi per poi decidere di toccarne uno e quello che tocco dovrebbe fare l'azione che io mi aspetto che lui faccia quante volte hai toccato un bottone e non ha fatto quello che ti aspettavi allora ci riprovo con quello vicino oppure torno indietro perché tu ti eri fatto un modello mentale di come lui doveva funzionare e invece lui funziona in modo diverso di solito la prima reazione è sono sbagliato io non ho capito come funziona allora tutta la teoria della user experience dice invece che non è questa la risposta la risposta se un oggetto cerco di usarlo in un modo e lui non funziona in quel modo perché è posato in modo diverso è stato progettato male questi due golfi non devono esistere ma immaginate un gamer che gioca con i videogiochi con le console se ogni volta che deve sparare dovesse fermarsi un decimo di secondo a pensare ma devo sparare questo o quell'altro bottone non gioca più a niente ho fatto questo esempio per indicare un campo in cui i tempi di reazione sono ridotti al minimo quindi non c'è tempo per pensare non c'è tempo per aver dubbi e quindi le azioni devono essere le più naturali le più semplici possibili poi per carità c'è gente che la dita forma di wasd proprio dalla nascita ma allora questi concetti quando avete finito di guardare di Hilbert e se non avete ancora voglia di studiare prendetevi sto libro di questo signore barbuto Donald Norman il titolo è la caffettiera del masochista sottotitolo psicopatologia degli oggetti quotidiani la caffettiera del masochista si capisce perché perché quando tu riempi quella caffettiera di caffè bollente per versarlo non puoi far altro che ustionarti il polso ok? per come la versi è colpa tua se ti ustioni il polso no è colpa di quel cretino che ha messo il beccuccio della caffettiera della parte sbagliata e perché è un cretino? perché non ha pensato a come quell'oggetto veniva usato sarebbe stato usato dai suoi utenti da chi l'avesse comprato ok? quindi questo libro in modo anche molto discorsivo piacevole non è un libro molto tecnico Norman è uno psicologo che ci lancia in questo mondo in cui ci fa capire dandoci anche molti esempi pratici nella vita di ogni giorno esempi di progetti giusti e progetti sbagliati di oggetti che si comportano nel modo giusto e qual è il modo giusto? il modo in cui l'utente si aspetta ma io non sono a conoscenza a priori di come si possono comportare tutti gli oggetti possibili e immaginabili ma sono gli oggetti e qui parliamo di oggetti fisici ma le interfacce utente vengono percepite comunque come oggetti sono gli oggetti che mi parlano di sé e mi dicono come possono essere usati allora io non credo che nessuno di voi abbia mai avuto problemi a uscire da queste porte no? immaginate che sia chiusa quella porta una porta antipanico con la barra rossa c'è un modo solo di usare quella barra rossa spingerla ditemi se qualcuno di voi ha mai provato a tirarla no non ci viene perché per come è fatta posso solo spingerla quello è un progetto fatto bene posso spingere tra l'altro con la mano con il gomito con la schiena con le gambe è certo perché è stata progettata per situazioni di panico in cui non c'è tempo di pensare devo tirare o spingere allora ogni volta che vedete scritto su una porta il cartellino tirare o spingere pensate pirla chi l'ha fatta quella porta perché se una porta si può solo o tirare o spingere le maniglie da un lato e dall'altro le devi fare diverse infatti dal lato in cui devi spingere non devi mettere una maniglia devi mettere una placca e dal lato in cui si tira devi mettere una maniglia un maniglione ci vuole tanto no allora questo è il tipo di ragionamento che cominciamo a fare quest'altro signore anche lui è psicologo ha cominciato a traslare questi concetti di norma nel mondo informatico quindi lui si occupa di interfacce ha un sito questo lavora vive come consulente questo signore qui l'altro è un professore di università questo vive come consulente privato è una società di consulenza che fa questi studi ma di tanto in tanto almeno mi sembra che ogni settimana lui pubblichi una pillola di usabilità cioè una piccola notizia qualche suggerimento e poi ogni tanto pubblica degli estratti di studi più approfonditi che fa quindi ogni anno ti dice ho fatto lo studio sulla internet delle grosse aziende internet non siti pubblici e ti faccio vedere quali sono i dieci errori di usabilità principali di queste aziende di queste internet eccetera eccetera quindi anche questa se vi interessa questo tema è una lettura abbastanza interessante poi c'è la forma breve di tutte le regole di usabilità dei decaloghi dei libri eccetera che è questo libro che ha scritto questo Steve Krag che maledizione l'ha prestato qualcuno non mi ha mai tornato indietro il cui titolo dice già tutto cioè la regola zero dell'usabilità è non farmi pensare cioè nel momento in cui tu costruingi un utente a pensare cosa fa questo bottone o cosa succede quando premo invio hai già fallito perché l'utente deve pensare ai dati che inserisce deve pensare al processo che va avanti al suo obiettivo che viene raggiunto non a cosa fa quel bottone perché cosa fa quel bottone lo distrae dal suo obiettivo lo rallenta lo fa sbagliare perché è una distrazione una distrazione al giorno va bene ma una distrazione ogni volta che fai un passo non ti permette più di entrare in contatto con la tua applicazione con ciò che stai facendo col sistema informativo con ciò che stai facendo con l'interfaccia quindi questo libro qua tra l'altro nell'introduzione dice io ho scritto questo libro in modo che se tu hai un viaggio in treno riesca a iniziarlo a finirlo e si leggi in due ore due ore e mezza quindi anche è molto visuale con degli esempi di pagine web esempi pratici eccetera quindi anche questo sono tutti testi molto leggeri tutto sommato ma anche decisamente istruttivi dopo che leggi queste cose non vedi più il mondo con gli stessi occhi ve lo assicuro e questo riassume essenzialmente il fatto in una parola molto in uno slogan molto facile da ricordare tutto il discorso sul golfo della valutazione del golfo esecuzione che facevamo prima cioè lo sforzo cognitivo che deve fare un utente per riuscire a capire qual è l'azione dell'agire su un elemento dell'interfaccia utente io devo poter prevedere che cosa succederà se premerò questo bottone senza pensarlo a livello cosciente il livello cosciente teniamolo per le cose furbe l'interazione cerchiamo di spostarla a livello intuitivo a livello subconscio e ci sono dei trucchi per farlo ad esempio questi sono dei fornelli da cucina tutti li abbiamo a casa ok che hanno tutti una fila di bottoni rigorosamente allineati e quindi tutte le volte che accendiamo un gas dobbiamo provarci tre volte qual è poi a fianco di ciascuno c'è sempre una cosa piccola così perché per ragioni di design non lo devo rovinare che ti fa capire con un codice imperscrutabile qual è quello dei quattro fuochi che stai accendendo ogni volta ci devo pensare questo è un altro design della stessa cosa in cui non c'è dubbio ho alzato di un centimetro o due dei tasti nessuno può pensare che questo tasto non comandi questo fuoco per forza perché la forma la percezione che ho dell'interfaccia già mi parla della sua funzione come la maniglia rossa delle porte antipanico già mi dice come funziona e a cosa serve solo guardandolo non devo pensarci o ragionarci lo guardo e l'ho già capito non lo guardo e poi lo capisco no lo guardo e l'ho già capito nel guardarlo stesso perché a livello percettivo riesco a darti quei suggerimenti subliminali che ti fanno già capire qual è la funzione dei vari dispositivi sono piccole cose ma la perfezione è fatta di dettagli questa è una foto che avevo fatto in un posto in Catalonia prima che la cominciassero a picchiarsi è un raccoglitore per la raccolta differenziata dei vari tipi di oggetti e qui vedete come rinforza l'informazione la stessa informazione la dà in modi diversi ad esempio questo è il raccoglitore dei cd usati perché siamo pieni di cd da buttare però hanno deciso di fare il raccoglitore per differenziare i cd usati cd o dividi usati c'è il disegno del cd e c'è una fessura della dimensione del cd spessore e lunghezza invece che ne so altre cose hanno dimensione ad esempio le pile che è questo c'è il disegno delle pile adesso la foto non rende un granché però qua si vede che c'è due buchi tondi per le pile più grandi quelle più piccole uno quadrato quindi la forma dei buchi te lo rinforzo c'è il disegno c'è la scritta non si legge tanto qui c'è scritto pile e poi la forma delle fessure ricorda la forma dell'oggetto che ci devo mettere dentro te lo rinforzo in tre modi diversi e quindi in qualche modo ti aiuto a capire quel determinato oggetto che ho in mano dove lo devo buttare ovviamente questo non ha vietato a uno di mettere un tubo fluorescente nello sportello dei toner delle cartucce delle stampanti però vabbè che ci vuoi fare gli utenti sono sempre più furbi delle contromisure che prendiamo per renderli innocui quindi noi abbiamo delle azioni che devono essere evidenti subito e che forniscono un feedback immediato accendo il fornello si accende la fiamma quindi vedo subito qual è l'effetto il vedere subito qual è l'effetto rinforza in me la comprensione di come funziona quel sistema ma se ci fossero degli elementi il cui effetto non è immediato e con immediato parliamo di due tre decimi di secondo che è il tempo di direzione che ci aspettiamo massimo allora dobbiamo fornire delle indicazioni all'utente per lo meno che dicano che l'azione è iniziata per quello che vedete tante cose barre di progresso oggetti che girano eccetera eccetera tu quando schiacci un bottone o l'azione si compie subito o subito ti deve comparire un'indicazione che ti dica ho iniziato ho preso in carico la tua azione ho cominciato a farlo quando io premo il bottoncino qua per accendere questa ambaradana del proiettore lui non parte subito però non in tutte le cattedine alcune quando premi lui comincia a lampeggiare allora sai che hai premuto eviti di premere altre 18 volte per sicurezza cosiddetta quindi ci sono anche lì dei modi anche qua dei modi di far capire all'utente che una certa azione che lui ha richiesto è stata compresa e sta venendo portata avanti e prima può arrivare alla conclusione vabbè questi sono alcuni oggettivi che possiamo applicare andiamo avanti con degli esempi un altro esempio prendiamo gli oggetti di ogni giorno telecomandi allora una cosa che voi credo nella vostra vita non abbiate mai avuto sono i manuali di istruzione voi siete cresciuti in un mondo in cui non esistono manuali di istruzione cosa che invece non era vera anche solo dieci anni prima di voi in cui gli oggetti ma in realtà poi ci sono anche per alcune cose ma nella maggior parte dei casi no perché non perché siete più intelligenti ma perché gli oggetti sono stati progettati in modo da non avere bisogno di manuali di istruzione perché tanto la gente non leggeva lo stesso nel cruscotto della vostra macchina c'è di sicuro un manuale di istruzione della macchina quello deve esserci per legge quanti l'hanno già letto tutto no quando ti serviva una certa pagina quindi è un manuale più di riferimento che non di istruzione lo usiamo come manuale di riferimento devo cambiare le gomme qual è la pressione in che pagina è scritto quindi devono esserci ovviamente le informazioni ma per la maggior parte delle operazioni il sistema è progettato in modo da da fornirmi immediatamente le funzioni che mi servono e poi permettermi di imparare poco a poco con le funzioni più avanzate i sistemi fatti bene ne sto parlando allora cosa è cambiato perché siamo capaci oggi a progettare sistemi in questo modo facili da usare usabili allora proviamo a confrontare i due approcci diversi di progettazione quello che qua ho chiamato approccio tradizionale l'approccio tradizionale è quello che prosegue sulla linea che abbiamo impostato dei sistemi informativi noi abbiamo detto il sistema informativo è fatto di tante funzionalità quindi abbiamo i requisiti funzionali e allora l'interfaccia utente deve semplicemente fornire accesso a tutti i requisiti funzionali cioè a tutte le funzioni del sistema le possiamo mettere in un lungo elenco di 200 voci in ordine alfabetico e abbiamo finito la nostra interfaccia utente quindi ad esempio se progettiamo un oggetto che è un ascensore mi chiedo quali sono le cose che può fare l'ascensore e l'ascensore può andare a un certo piano può aprire la porta può chiudere la porta può fermarsi o può inviare un segnale di allarme se è successo qualche cosa queste sono le funzioni del sistema e allora progetteremmo un'interfaccia utente in cui ciascuna di queste funzioni ha un bottone separato ha un'azione separata viceversa l'approccio che stiamo prendendo noi va oltre dice sì è vero che il sistema ha quelle funzioni ma quali sono le modalità con cui gli utenti le usano queste funzioni quali sono i casi d'uso attraverso i quali gli utenti approcciano il sistema ricordate quella frase che vi dicevo descrivo le funzionalità del sistema attraverso i modi in cui l'utente le può usare abbiamo detto questa frase quando parlavamo di casi d'uso e qui torna è fondamentale sapere quali sono le funzionalità ma ancora più fondamentale sapere come gli utenti le usano dal loro punto di vista e quindi l'utente chiama l'ascensore seleziona un piano ferma l'ascensore e poi può chiedere aiuto poi c'entra e esce che vabbè in realtà non deve interagire con l'ascensore per poter entrare e uscire l'ascensore le azioni che fa e quindi conviene progettare l'interfaccia utente seguendo i casi d'uso dell'utente stesso adesso è un ascensore di un sistema molto semplice quindi però nella sua semplicità di progettazioni sbagliate di ascensori e di usi sbagliati di ascensori ce ne sono a bizzette allora noi dobbiamo progettare l'interazione utente tenendo conto del punto di vista dell'utente è il sistema che si deve adattare all'utente non viceversa e quindi ci sarà un pulsante di chiamata che sta fuori ci può essere anzi è bene che ci sia l'indicazione di dove si trova l'ascensore in quel momento la cosa serve? serve a dare un feedback all'utente del tempo di attesa che lui deve presumibilmente mettere in conto l'utente deve riuscire a percepire lo stato del sistema cosa sta facendo il sistema? non posso mandarlo alla cieca l'utente devo dargli gli strumenti per poter percepire lo stato del sistema e poi all'interno dell'ascensore dovrò permettergli di selezionare un piano fermare l'ascensore oppure chiedere aiuto quindi il piano da selezionare il bottone di stop il bottone di allarme ogni bottone corrisponde a un'azione che l'utente può voler fare poi ci sono sistemi più sofisticati ad esempio un ascensore che sia più ricco e allora posso chiamare l'ascensore per scendere o chiamare l'ascensore per salire e poi posso forzare l'apertura o la chiusura delle porte perché magari sto aspettando qualcuno oppure vedo che non c'è nessuno è inutile che aspetti il tempo di attesa per chiudere le porte e questo quindi significa che il bottone di chiamata sono due uno per salire e uno per scendere e significa che all'interno dell'ascensore avrò due tasti uno per aprire le porte per forzare l'apertura delle porte e l'altro per forzare la chiusura delle porte allora qui cominciano i problemi il primo problema è che chiamare l'ascensore per scendere o chiamare l'ascensore per salire non sono veri e propri obiettivi dell'utente casi di usura dell'utente cioè che differenza c'è tra chiamare l'ascensore per salire o per scendere dal punto di vista dell'utente nessuna è il sistema che fa comodo saperlo in modo da poter scegliere quale ascensore far arrivare e in che ordine farli fermare è un'informazione che serve al sistema non che serve all'utente io voglio un ascensore poi quando sono sopra decido in che piano andare il modello dell'ascensore è quello lo chiamo e dopo decido dove andare se fosse un modello diverso deciderai prima a che piano voglio andare e poi dopo quando arrivo non gli dico più nulla ma non funziona così allora il fatto che io obblighi l'utente a fare una scelta di cui a lui non mi frega niente fa sì che gli utenti facciano casino per cui tipicamente abbiamo due tipi di utenti l'utente non si sa mai che arriva lì e li preme tutti i bottoni sia sopra che sotto e l'utente ci penso io per cui se sono al secondo piano devo andare al primo no com'è l'utente che preme il bottone pensando che se premo il bottone in giù faccio venire giù l'ascensore e quindi immagina il verso di movimento che deve avere l'ascensore tenendo conto del piano in cui l'ascensore si trova no per cui se si trova al primo piano deve andare al secondo e l'ascensore al terzo lui schiaccia giù perché dal primo andare al secondo lui dice ma l'ascensore al terzo deve scendere al primo gli dico di scendere no totalmente flippato eppure è così fermatevi tre minuti davanti all'ascensore e li vedete queste cose la gente non capisce questa interfaccia basta smettiamola di farla spenderemo un pochino più di energia elettrica vorrei quantificare quanto e vorrei dire che l'ascensore rischierà di fare dei mezzi giri a vuoto pazienza perché avere un algoritmo che ottimizza i viaggi dell'ascensore sulla base di un input che è completamente sbagliato non è che sia particolarmente perché? ma perché questi non sono casi di uso rappresentativi della percezione dell'utente poi c'è un altro problema su queste apri e chiudi allora il don't make me think a queste qua non si applica proprio cioè chi di voi ha distinto no lo nasconda ve lo faccio vedere e lo ricopro dopo un decimo di secondo mi dite qual è quella per aprire e qual è quella per chiudere nessuno magari qualcuno per carità c'è il dono su queste cose va bene perché sono delle icone che sono delle serigrafie uno sono delle serigrafie che sono da interpretare queste due frecce cacchio sono sono le porte allora se una porta è una cosa rettangolare io la disegno in forma di freccia sì bravo boh e invece la sbarretta sottile in mezzo è il varco in mezzo alle porte ma ditemi chi l'ha pensata questa cosa no? va bene e poi la posizione relativa uno a sinistra dell'altro l'altro a destra cosa mi dice? no non mi dà un'informazione io non saprei come farlo altrimenti io so che quando devo dire quando sta arrivando qualcuno no? e che ti dice fermami l'ascensore non so voi io ci metto un piede in mezzo quello so che funziona ok? mi fido che abbiamo essi sensori e di solito funzionano perché faccio prima giuro a mettere il piede in mezzo che a capire quale bottone devo prendere non so voi quindi in questo caso sono funzioni interessanti che l'utente vuole voglio tenerti la porta aperta però l'ho detto così voglio tenerti la porta aperta tenere la porta aperta così vuol dire mettimi un sensore sulla porta anziché dover bloccarla col piede mettimi un sensore lì una placca che se io metto la mano lì appoggiata la porta non si chiude ti costa di più? no voglio tenere la porta aperta tengo la porta aperta per chiudere la porta fammi mettere un bottone a fianco della porta un bottone a fianco con la freccia così se la porta si chiude in così la capisco meglio che non sta roba qui adesso faccio l'esempio sulle cose su oggetti concreti perché sono più facili anche più divertenti a quest'ora e la sera da cogliere però poi noi dobbiamo traslare sull'interfaccia web ma il concetto è lo stesso ancora più difficile perché l'interfaccia web è astratta non oggetti fisici in movimento poi ci sono dei geni ci sono dei geni questa qua l'ho fatta in un albergo questa fotografia allora qui c'è vabbè ci sono due chiavi una per i pompieri e l'altra non si sa per chi l'allarme apertura porta ma io già preferisco c'è solo l'apertura porta non c'è la chiusura uno è più facile da capire di due e poi ho i piani meno uno zero uno due tre quattro cinque sembra il gioco della campana quello che facevamo da bambini ricordate cosa pensate voi io vedendo questo ho pensato l'albergo era un albergo avrà dei corridoi sfalsati su ogni piano ci sono i sensori con due porte magari il piano meno uno esce e dal piano tre esci da qua al piano due esci dall'altra ma no era normale una colonna verticale è uscita sempre dalla stessa parte io devo ancora capire adesso perché hanno messo i tasti in quel modo perché? dice ma per caso non è per caso c'è uno che ha fatto un disegno al CAD l'ha passato un altro che ha tagliato la lamina per mettere i bottoni l'ha passato un altro ancora che ha installato i pulsanti e li ha collegati dietro almeno in tre si sono messi per fare sta roba che non ha un senso alcuno allora io posso capire metterli su due file cioè due per fila e non tutti in colonna che sarebbe la scelta più normale perché i piani sono uno sopra l'altro per ragioni di sviluppo in altezza ok? tu non puoi avere un pulsante terra qua e il pulsante sesto piano qua su perché se ti sale un bambino se ti sale una persona in sedia a rotelle non ci arriva a premerlo infatti gli ascensori tra virgoletto accessibili tendono ad avere i piani in orizzontale 0,1,2,3,4,5 e non in verticale vedete che ultimamente tendono a mettere i bottoni con lo sviluppo orizzontale per evitare appunto che l'altezza diventa un ostacolo dell'accessibilità ci vuole un attimo di più però tanto la ragione sul numero e se sono progressivi sappiamo tutti contare dalla tenertà però diciamo per compattare lo sviluppo verticale io posso aver capito che abbiamo deciso di mettere i due per fila ma perché siano sfalsati non lo so e quel non lo so è quello che tra l'altro ti abbrucia pelo se ti dici dov'è il 4 perché non è una chiave di lettura devi seguire lo zig zag e sono tutti don't make me think sono tutti frazioni di secondo che si frappongono tra la tua intenzione vado a quel piano e l'azione fisica che ti permette di ottenere quel risultato e quindi se noi vogliamo non creare questi mostri e dobbiamo proprio impostare una modalità di progettazione che parta proprio dall'utente che coinvolga l'utente l'utente finale fin dall'inizio della progettazione del sistema noi abbiamo detto fin dall'inizio che il documento dei requisiti devono essere concordati con i clienti perché ovviamente devo costruire un sistema che il cliente mi pagherà perché gli serve e funziona come serve a lui qui sto aggiungendo un pezzo in più io quel sistema lo devo condividere prima ancora di costruirlo quando lo sto pensando lo devo condividere non solo col cliente ma con gli utenti del cliente che poi domani dovranno usare il sistema se io devo costruire un sistema che venga usato nella segreteria studenti del Politecnico vabbè la progettazione generale le funzioni generali le concordo con il responsabile della segreteria studenti ma l'interfaccia la voglio progettare insieme agli sportellisti alle persone che stanno a sportello che lo usano in continuazione otto ore al giorno per capire come pensano che concetti hanno come chiamano le cose e poi usare quelle loro metafore quel loro modo di pensare quelle loro aspettative che hanno sul fatto che una certa cosa funziona in un certo modo per progettarle per tenerne conto quando progetto l'interfaccia utente quindi devo fare dei momenti di riflessione con loro all'inizio poi faccio delle prove di interfaccia le faccio vedere vedo se loro le capiscono vedo se loro hanno dei dubbi ma una prova può essere fatta semplicemente su un pezzo di carta disegnato a matita se tu volessi chiamare l'ascensore dove toccheresti? fate una prova per capire quanto complessità d'uso complessità funzionale quanto sono facili da usare ad esempio i siti web prendete un sito di una multinazionale qualunque e andate sulla versione giapponese o cinese la vostra scelta è uguale capisco bene tutti e due sono fluente e vedete non capirete nulla spero spero immagino ma saprete che cosa sono i vari elementi se vi chiedo dove si fa il login me lo sapete dire se vi chiedo dove devo cliccare per tornare l'home page me lo sapete dire se vi chiedo dov'è il menu me lo sapete dire dov'è la casalla di ricerca me lo sapete dire senza capire niente perché? perché chi ha progettato quel sito anche se è in una lingua diversa dalla nostra si è agganciato a delle convenzioni di uso radicate nella nostra testa nel nostro modo di pensare nel nostro modo di lavorare allora per rendere un sistema facile da usare devo agganciarmi a questo devo agganciarmi al modo di pensare degli utenti e come lo faccio? lo scopro parlando con loro e poi chiamando gli oggetti nel modo giusto mettendoli nel posto giusto in cui loro si aspettano e dandogli la forma che loro si aspettano è chiaro che non posso chiedervi dove metto il bottone di ricerca o che icona usare questo è il lavoro mio di progettista ma nel fare il mio lavoro devo farlo prevedendo studiando il loro comportamento vedendogli usare dei prototipi delle prove allora ti faccio vedere l'interfaccia del sito fatta in giapponese o con dei caratteri a caso l'Orem Ipsum conoscete l'Orem Ipsum? non conoscete l'Orem Ipsum? l'Orem Ipsum è il testo più importante dovrebbero farlo studiare al posto della della Divina Commedia è il testo più importante al mondo l'Orem Ipsum.com e chi è questo? no dove è andato scusa questo passaggio qua tranquilli non avete dimenticato il latino è che questo non vuol dire niente non è latino sembra sono parole che sintaticamente somigliano al latino ma non vogliono non fanno nulla di senso compiuto allora se io voglio studiare l'interfaccia di un sito che ti sto proponendo non lo riempio con le parole cerca prodotto che ne so non metto delle parole vere ma metto delle parole prese da qua così sono sicuro che se tu trovi l'elemento giusto da cliccare l'hai fatto perché il layout del sito si sta guidando perché la scelta dei caratteri dei fondi della posizione si sta guidando e non per le parole che sono scritte poi a parte se vogliamo delle parole fatte bene quindi molti siti di prova sono fatti con l'ipsum perché non puoi mettere prova 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 dentro lo fai vedere a un utente e gli dice ma che schifezza questa qua mettiti dei contenuti veri ma non puoi neanche mettiti dei contenuti veri perché se no loro si fissano sul contenuto vero qui ci sono dei trucchi per fare in modo di estrarre dall'utente quella che è la sua percezione ad esempio del layout del sito della posizione dei vari elementi dell'interfaccia poi un gioco separato è quello di dire come chiamiamo le voci del menu magari ci vuole un mese per decidere come chiamare le voci del menu in modo che uno vada sul menu giusto lavoro che non hanno fatto questi signori qui allora poi dopo un po' uno lo impara perché con l'apprendimento si impara a guidare lo shuttle non è un problema che ha 12 milioni di switch però a colpo sicuro sapere dov'è una certa cosa qua dentro non a caso hanno scelto delle voci di primo livello dei titoli e poi dopo visto che queste qua non dicevano nulla perché gli avvisi non debbano essere dei servizi per gli studenti e le borse di studio anche non lo so ecco movità verso l'estero movità dall'estero dov'è? non riesco a farmi un modello mentale che mi guidi e mi faccia prevedere che cosa troverò qua dietro cliccando qua infatti per farlo hanno dovuto addirittura scrivere dentro guarda che qui dentro troverai questa cosa don't mind me think prima di leggere tutta sta roba non mi basta mezzo secondo e ogni volta devo ricominciare da capo quindi perché succedono queste cose o come si fa a non fare succedere è perché in questo processo di sviluppo si è partiti da dire la segreteria offre tutte queste cose sbattiamole tutte in un portale e va bene le funzionalità progettazione basata su requisiti funzionali ma poi questi requisiti funzionali vanno reinterpretati dicevamo prima in casi d'uso quali sono le cose che lo studente può fare e come le organizziamo casi d'uso di livello summary quali sono le aggregazioni sensate che l'utente può avere in mente su tutti i suoi casi d'uso allora quelli sono poi le voci del menu principale e che se sono pensate dal punto di vista dell'utente è facile per lui trovarle e entrare nella scatola giusta non devono essere pensate dal punto di vista dell'ufficio che le eroga perché questo è molte volte sull'architettura dell'informazione di un sito cioè su come sono organizzate le informazioni si vede l'organizzazione degli uffici ma l'utente non è tenuto a conoscere l'organizzazione degli uffici per sapere se quella cosa la trova in una sezione oppure nell'altra questo è uno degli errori più gravi che si fa partire dal sistema o dalla organizzazione dell'azienda e non dall'utente e poi qui non facciamo un corso sulla progettazione dell'interfaccia ma la usiamo solo a qualche ora però questa tabella purtroppo paginata brutta ci fa capire che ci sono varie tecniche per fare questo lavoro con gli utenti questionari interviste focus group osservazioni cioè vedo l'utente mentre usa il sistema magari la versione precedente del sistema cerco di capire quante volte sbaglia quale sono azioni che compie rapidamente e quale fa lentamente chiedere suggerimenti agli utenti ma per te qual è la cosa più difficile qual è la cosa in cui sbagli più frequentemente qual è la cosa che vorresti migliorare e l'altra cosa che si dimentica sempre è l'analisi della concorrenza cosa fanno gli altri io so che siamo tutti nati bravi ciascuno di noi quando è nato è convinto di essere più bravo di tutti quindi quello che farò io sarà di sicuro meglio però dare un'occhiata a cosa hanno fatto gli altri che magari hanno cominciato prima ci hanno investito di più e copiare non sarebbe male però uno ha sempre l'idea ma io lo farò meglio ma si ho capito può darsi ma per farlo meglio prima cerca di conoscere cosa hanno fatto gli altri e se vedi che loro hanno trovato una soluzione per un problema che avrai anche tu chiediti se quella soluzione non possa andare bene anche per te è facile copiare vedi come l'hanno fatto lo fai anche tu piuttosto che inventare da zero inventare da zero ha due difetti primo che costa di più ci devi mettere più tempo perché devi inventartelo da zero lo dice la parola anziché inventare una cosa copiare una cosa metà fatta vabbè ma questa è solo una questione di costi l'altro problema che è più serio è che gli utenti dice un vecchio motto di Nielsen passano il 99% del tempo su siti che non sono i tuoi quindi loro si abituano al fatto che il web le interfacce web funzioni in un certo modo acquisendo rinforzando delle abitudini che prendono dagli altri siti che apprendono dagli altri siti e allora cosa succede è che quando vanno sul tuo sito se tu non usi le convenzioni che usano tutti gli altri gli utenti percepiscono difficile navigare sul tuo sito se tu scrivi un libro e decidi perché sei più intelligente che i titoli li metti in corpo 10 e il testo lo metti in corpo 15 quindi hai il titolo più piccolo del testo chiunque apre questo libro è disorientato e non capisce dove inizia e finisce il capitolo perché? ma perché da sempre siamo abituati che il capitolo si scrive grosso il nome del capitolo più grosso del testo è una legge? no è una convenzione e allontanarsi dalle convenzioni non conviene mai forzare una convenzione nuova richiede anni e risorse il menù hamburger di cui parlavamo prima sapete qual è? quello con le tre righe orizzontali che avete sul telefono nell'applicazione c'è quasi sempre una cosina così no? quella è un'icona terribilmente astratta che indica il menu se premete quello apre il menu adesso ma sono passati forse 4 anni credo non vorrei contarli male perché vado così a stima da quando è stato usato per le prime volte e comincia a essere usato è nato come elemento di interfaccia in android poi è cominciato a usarlo anche sui siti web e adesso grosso modo lo sappiamo usare però è difficile è richiesto anni anni e tante aziende diverse che decidessero utilizzarlo a me continua un piacere perché non non è comunicativo da solo non parla questo la fordance di quell'elemento non dice nulla non dice che cosa succede quando lo tocco però abbiamo imparato che funziona così che tira fuori il menu quindi una cosa che abbiamo appreso allora ci sono alcune cose che riusciamo a progettare in modo intuitivo per cui l'utente quando vede una certa cosa capisci che cosa fa certe cose che invece abbiamo imparato a usare in modo anche snello ma avendole apprese avendole imparate ecco questa parte di apprendimento non la posso fare io sul mio sito ma devo sfruttare l'apprendimento che gli utenti fanno sul resto del mondo perché è dove spendono il resto del tempo e quindi queste cose posso il fatto che questa icona sia usabile visto che lei da sola non parla non dice nulla è solo perché viene rinforzata dalla sua presenza in mille contesti diversi e allora mi abituo a usarla e ho capito ho imparato che cosa fa però se io nel mio sito decido di farne una con le tre stanghette verticali i miei utenti non potranno saperlo è vero che gli puoi dire sì ma dopo la millesima volta che la usi ma no io la seconda volta non uso più il tuo sito uso qualcos'altro perché da te non trovo le cose ma ci sono non lo trovate scusa non c'era un modo che io conoscessi per poterci arrivare facilmente quindi queste tecniche ci sono questa serie di tecniche che sono elencate qua nella prima colonna le possiamo mettere sotto di solito su questi progetti di questo genere c'è un team di persone che lavora proprio sulla user experience dell'interfaccia prima di progettare chiedendosi le domande degli utenti e chiedendosi le domande dei concorrenti che cosa fanno come lo fanno con che errori eccetera eccetera noi non avremo tempo di mettere in piedi un processo di questo genere entrare in dettaglio in queste tecniche anche se in realtà è una cosa molto interessante quello che impareremo a fare noi sarà più cercare di seguire un po' il nostro intuito la nostra esperienza l'esperienza vuol dire aver usato tanti sistemi aver appreso come gli altri lavorano e un pochino di regole che ci daremo perché ovviamente così come dire il titolo è più grosso del corpo di un libro è una regola tipografica che si è standardizzata negli anni quindi poi ci sono anche delle regole vere e proprie quando una prassi è molto diffusa questa si trasforma poi in norma che non è una norma di legge nessuno ti impedisce di fare diversamente ma non sareste intelligente se lo facessi il tipo di strumenti che useremo noi qui noi salteremo un pochino tutta la fase di progettazione insieme all'utente per giorni di tempo non è che all'esame possiamo dire adesso fate un gruppo di dieci utenti e pensate a questa cosa lo strumento che useremo noi sarà quello di creare degli schizzi dell'interfaccia detti anche a volte prototipi prototipi non funzionali poi se una volta parleremo di cosa sono i prototipi che diano l'informazione su come pensiamo di strutturare l'interfaccia per un determinato caso d'uso ovviamente ragioniamo partendo dai casi d'uso noi non progettiamo un'interfaccia utente completa ci basta uno schizzo per capire se quell'interfaccia è fruibile è funzionale è usabile e addirittura basta uno schizzo per poterla testare con degli utenti e noi useremo uno strumento basato su web che si chiama Balsamic che ci permette ci aiuta a disegnare questi schizzi qua e anche a provarli in modo parzialmente interattivo così il nostro caso d'uso non solo lo scriviamo per punti ma poi lo implementiamo effettivamente con una serie di videate che possiamo navigare andando a schiacciare bottoni frecce link quindi la prossima volta capiremo un po' meglio questo meccanismo di prototipi e cominceremo a darci delle regole per creare questi prototipi non funzionali grazie a tutti